Benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza, sono Gianfranco Marini e vorrei presentarvi Loom. Loom è un'applicazione, più esattamente un componente aggiuntivo di Chrome, che serve per realizzare registrazioni dello schermo o screencast. Lo screencast è un'applicazione freemium, non è che sia propriamente a pagamento, però per sbloccare le varie funzionalità di questa applicazione bisogna compiere determinate attività. Lo screencast è la registrazione di tutto quanto avviene a schermo, nello schermo del vostro computer, e di quello che voi come commento pronunciate. Ed è esattamente quello che sto facendo io per costruire questo video tutorial. È un sistema di creazione dei video estremamente semplice, non richiede riprese, non richiede attrezzature e dispositivi, ed è estremamente versatile. Con lo screencast si possono fare tante cose per la didattica. Dicevamo un componente aggiuntivo che va installato in Chrome, quindi deve avere Google Chrome. Si possono registrare schermo e voce, è estremamente semplice da usare. Questo è un grosso vantaggio. E anche la rapidità con cui si realizzano i video. Naturalmente poi, se dobbiamo predisporre del materiale, le cose si fanno più complicate. Quali sono le caratteristiche? Bene, abbiamo detto che, pur non dovendo pagare, abbiamo inizialmente dei limiti. Dopo che creiamo un video, non vi possiamo accedere se non entro un arco molto ristretto di tempo, quindi 24 o 48 ore. Dobbiamo sbloccare questa caratteristica, poi vedremo come. La durata dei video è inizialmente di 10 minuti e poi non abbiamo accesso immediato alle caratteristiche avanzate, se non facciamo certe cose. Ma lasciamo per un momento questo aspetto e vediamo quali sono le caratteristiche di Loom. Abbiamo la possibilità, prima di tutto, di inserire dei commenti nel nostro video, commenti testuali, commenti di testo, che gli utenti possono leggere. Abbiamo la possibilità di scaricare questi video perché vengono salvati su Loom e sono disponibili su Loom e visibili su Loom, ma possiamo anche scaricarli per averli offline o magari caricarli su nostro canale YouTube. Il settaggio è molto semplice, cioè per configurare le opzioni di registrazione dello schermo. Non abbiamo grossi problemi, è tutto molto facile. E come detto, insomma, si realizzano rapidamente i video. Dunque, ciò che mi premeva però soprattutto, prima di passare a Loom, mostrarvi, sono gli utilizzi che possiamo fare in ambito didattico, non solo di Loom, ma insomma di tutte queste applicazioni che possiamo usare per lo screencasting. Bene, per esempio, registrare video lezioni, video lezioni disciplinari o su tematiche interdisciplinari, oppure video tutorial come questo, o magari delle guide o delle presentazioni, devo presentare un'attività ai ragazzi, o devo fornire una guida che so per un'uscita didattica, oppure messaggi. Pensate sempre all'esempio dell'uscita didattica o del viaggio di istruzione, anziché mandare un foglio di carta, come si dice, una programmazione, un modulo cartaceo, mando ai genitori un videomessaggio in cui spiego quelle che saranno le attività, oppure posso recensire, posso recensire un film, posso recensire un libro, posso recensire, per così dire, un evento, tema o problema d'attualità o comunque legato alle attività educative e formative che si svolgono. Posso fornire delle istruzioni o delle consegne specifiche su un determinato compito che assegno alla classe, non so, realizzare per esempio un video su un certo argomento, oppure realizzare una registrazione audio su un esperimento, posso dare le istruzioni attraverso un video, attraverso ovviamente, fruttando le possibilità che ho nello schermo, di mostrare magari una checklist, una lista, un elenco con tutte le varie fasi dell'attività, commentandola agli studenti, eccetera. Oppure posso correggere dei documenti, documenti di testo che possono essere relazioni, che possono essere temi, che possono essere questionari, e così via. Mostrerò il compito nello schermo, come adesso sto mostrando a voi questa slide di questa presentazione, e mostrerò che sono gli errori, mostrerò dove l'esposizione è più chiara, dove è meno chiara, eccetera, eccetera. Ma posso correggere non solo documenti di testo, ma anche lavori digitali, i lavori che dicevo prima, per esempio la realizzazione di un video, posso mostrare quei punti del video che magari presentano delle criticità, o quei punti del video che invece possono essere utilizzati come esempio o modello dagli altri studenti, perché è riusciti particolarmente bene. Posso analizzare e esaminare un'immagine, un quadro, oppure un grafico, poniamo un grafico di economia o di demografia, oppure delle carte geografiche, oppure degli articoli di giornale, e così via. Quindi lo screencasting è estremamente versatile, estremamente utile in ambito didattico, per questo ritengo interessanti tutte queste applicazioni per realizzare dei video tramite questa tecnologia. Abbiamo detto che Loom non è un'applicazione, o meglio è un'applicazione che si integra con il nostro browser Google Chrome, e possiamo lanciare Loom utilizzando questo bookmarklet, questo pulsante, che dà avvio alla registrazione. Come installare questo pulsante? Bene, andiamo a scrivere Loom, magari scriviamo anche Screencast per essere sicuri di beccare. Ecco qui, vedete che abbiamo un primo link che ci rimanda al Google Chrome Web Store, cioè al negozio di Chrome, dove troviamo le applicazioni per Chrome, i componenti aggiuntivi per Chrome. Per aggiungere questo pulsante basta cliccare qui in alto a destra. Io l'ho già fatto, quindi adesso chiudiamo e torniamo alla nostra pagina di ricerca. Clicchiamo e vediamo, ecco questa è la home page di Loom. Vediamo qui anche il moto che è interessante, più semplice e più veloce che digitare, cioè possiamo fare tramite il video screencast le stesse cose che facciamo digitando, ma più rapidamente e più efficacemente con gli eventi multimediali. Bene, dobbiamo registrarci, ci possiamo registrare con Google, con off account Google, oppure con la mail, oppure con Outlook. Io andrò avanti con Google, comparirà la finestra in cui mi si chiederà, ecco. Ed ecco sono entrato, qui vedete questa mia espressione un po' idiota, sono entrato nella pagina dei miei video. Ora, qui non si vede molto bene, ma potete notare che esiste una serie di step, di passaggi, per sbloccare le caratteristiche di Loom. Io ne ho già sbloccate due nel giro di 24 ore, quindi è abbastanza semplice, e adesso ho la possibilità di realizzare il video al di sopra dei 10 minuti, in numero illimitato, sia i video sono illimitati che la loro durata è illimitata, e posso accedere ai video che ho registrato quando voglio, anche scaduto il tempo che invece si ha inizialmente, entro 24-48 ore, dopodiché non si può più accedere ai propri video. Qual è il modo per sbloccare queste funzionalità? Lo vedremo dopo. Adesso invece concentriamoci sul funzionamento di Loom. Quindi lanciamo Loom cliccando sul pulsante, e come vedete, mi sta attivando la webcam, ecco, come vedete è molto simpatico questo riquadro tondo, torniamo a dimensioni normali, posso spostarlo dove voglio, posso anche ingrandirlo, ecco, lasciamolo qui per adesso, e questi sono i settaggi per configurare. Prima di tutto, cosa voglio catturare? Clicchiamo. Posso catturare la Current Tab, cioè questa scheda, quindi se io selezionerò questo, se io selezionerò questo pulsante, potrò registrare solo quello che avviene in questa scheda qui. e non, per esempio, se passo un'altra scheda, non potrò più registrare. Oppure, come only, in questo caso, registrerò soltanto l'immagine della webcam, oppure il desktop, che è l'opzione che io uso sistematicamente, quindi dovunque io vada nel mio desktop, registrerò. Microfono, questo è a posto, microfono, dicevamo, vediamo il microfono, posso scegliere, per esempio, il microfono della mia webcam, o il microfono predefinito. Adesso lasciamo stare così, e poi posso decidere se ho più webcam, quale webcam utilizzare. Bene, diciamo che abbiamo selezionato, torniamo piccini, che abbiamo selezionato le nostre opzioni, e quindi possiamo cominciare a registrare, cliccando su Start Recording. Clicchiamo. Io ho due monitor, due schermi, quindi mi chiede qual è lo schermo che voglio utilizzare. Schermo 1. Mi avvisa... Ecco qua, la registrazione adesso è partita, come vedete compare un menu attorno al cerchio in cui si vede la mia immagine. ingrandiamo. Questo menu mi dà i settaggi della camera, con questo menu posso cancellare la registrazione, con questo menu, chiedo scusa, con questo pulsante posso invece interromperla e concluderla, e qui mettere in pausa. Questo è molto comodo perché mi permette magari di aprire un documento che mi occorre mostrare prima di continuare il video. Quindi, ripeto, i settaggi, pulsante per cancellare, pulsante per terminare la registrazione e pulsante per mettere in pausa. Ritorniamo di qua, mettiamo piccino, torniamo anche alla grandezza naturale e consideriamo di aver concluso. Per far sparire il menu basta cliccare sul simbolo del menu, i tre puntini, nascondi menu, apri menu. Bene, adesso io apro il menu perché voglio concludere il mio video. Richiesta un minimo di elaborazione, essendo un video breve, questo video, vedete, è già pronto. Adesso ve lo mostro a pieno schermo. Verrà un po' male perché sto realizzando questo video con un altro programma per lo screencast. Andiamo su Play. Come vedete compare un menu attorno al cerchio sull'inizio della mia immagine se la vediamo questo menu con un'inizio che faccio con la camera eccetera. Il mio video mi soddisfa o non mi soddisfa a che operazioni posso fare? Copiare il link oppure posso definire i permessi per accedere al video chiunque può accedere basta che abbia il link oppure si può accedere tramite password e qui digiterò la password. è interessante perché se per esempio lo usiamo per in situazioni insomma in cui la privacy va salvaguardata la possiamo salvaguardare in questo modo. Ancora qui scarico il mio video come vedete basta cliccare e il video e parte il download del video e con quest'altro pulsante e ne lo diamo un po' posso cancellare. Posso anche condividere il mio video nei principali social network almeno Twitter Facebook e soprattutto poi vediamo la funzionalità che riguarda i commenti. Io ho già scritto alcuni commenti è molto semplice ho inserito i due si capisce dal segno rosso vedete qui e qui immaginiamo di voler inserire un altro commento in questo punto basta inserire basta digitare in questo box e poi cliccare su post la cosa interessante è che i miei visitatori vedranno questi commenti e potranno rispondere cliccando su replica e quindi si può avviare una discussione quindi questa funzionalità così banale così semplice permette di utilizzare il video per navigarlo è creare e gestire una discussione per esempio con gli studenti e può essere molto interessante possono chiedere chiarimenti possono esprimere il loro punto di vista dare un giudizio un commento il tutto in modo estremamente rapido ed estremamente semplice naturalmente i miei visitatori non solo possono rispondere ai miei commenti ma vi mostro adesso un altro video ecco qua per esempio questo che ho realizzato insieme a mio figlio possono anche inserire un proprio commento quindi non si limitano a replicare a un mio commento ma possono a loro volta inserire dei commenti bene adesso andiamo a vedere come posso sbloccare queste funzionalità che mi permettono di andare di accedere quando voglio ai miei video e di andare oltre i 10 minuti di registrazione per vedere quali attività dobbiamo compiere dobbiamo andare o su guest started oppure anche su guarda altro o qui in questo in questo menu che possiamo nascondere o far comparire sulla destra io ho già sbloccato questi due obiettivi andiamo a vedere bene vedete che qui c'è una sorta di checklist io ho già spuntato varie voci che mi hanno consentito di superare i limiti per esempio la verifica della mail oppure guardare i due video introduttivi su come funziona l'HOOM oppure registrare il mio primo video personalizzare il titolo di un video registrare soltanto con la webcam oppure ancora mettere un like su Facebook alla pagina Facebook di L'HOOM eccetera eccetera in questo modo ho avuto la possibilità di accedere quando voglio ai video che ho già registrato inoltre per sbloccare la possibilità di registrare video più lunghi di 10 minuti della durata superiore di 10 minuti devo inviare questo link che è un link mio personale a qualcun altro che a sua volta userà questo link per registrarsi su L'HOOM perché tutto questo la logica è che in questo modo costringono l'utente a diffondere l'uso di L'HOOM a diffondere la comunità che fa riferimento a L'HOOM e quindi si ingrandiscono e hanno sempre più utenti in effetti funziona perché io in un attimo ho sbloccato i primi due obiettivi bene ci sarebbe altro da dire ma fermiamoci qui siamo già a 16 minuti vi ringrazio per avermi seguito e per la pazienza e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti